Ciao a tutti da Eliana Cartella, oggi ci troviamo da Sirio Infissi Vetreria in via Tagliamento 28, Molinella in provincia di Bologna. All'interno potrete trovare infissi in alluminio, vetreria, zanzariere, cancelli e porte blindate, infissi in PVC, porte finestre in legno. E tutto questo da Sirio, vetreria e infissi. Ciao a tutti, un bacione!